Leggendo il titolo di questo video potrai dirmi beh, peggio di così Michele non può andare, quindi perché dovrei fallire? Che cosa dovrei fallire se va già tutto a rotoli? Beh, se vogliamo essere un po' pessimisti oggi in questo video non c'è mai fine al peggio, a meno che tu non hai un piano d'azione che inizi pian piano a tirarti fuori da questa pallude che ti risucchia, che chiamiamo fibromialgia Come può andare ancora peggio? Come la tua situazione proprio ci può precipitare e che cosa puoi sbagliare? Lo sbaglio numero uno Lo sbaglio numero uno è fidarci del nostro istinto reattivo Adesso non vado bene a spiegarti la differenza tra l'istinto reattivo l'altro tipo di istinto che viene proprio dall'intelligenza cioè di una coltivazione della mente a lungo termine Però diciamo questo, che quando tu stai male il cervello automaticamente cerca una risposta veloce Perché? Perché noi siamo stati programmati per scappare davanti al pericolo Ok? L'avrei già sentito, no? Tipico, arriva una belva feroce e la persona, l'essere umano è stato programmato per tirarsi indietro vediamo un ragno che non ci piace tanto saltiamo indietro e la prima reazione è tirarci via Quindi che cosa facciamo? Con quel tirarci via dal problema stiamo cercando la situazione più veloce per eliminare il problema Ok? Una cosa più riflessiva che cosa sarebbe? Magari vedo un topo o un ragno che veramente mi fa tanto schifo lo guardo e faccio un passo indietro mi sono comunque allontanato però no, il cervello vuole la risposta più veloce allora cosa fa? Salta indietro cioè hai proprio quello scatto adrenalinico Vedi, questa è la peggior risposta che abbiamo dinanzi alla fibromialgia ma è la più naturale appunto perché quando stiamo male non ce la facciamo più abbiamo un dolore noi cerchiamo la risposta più veloce quindi che cosa facciamo? Iniziamo a cercare l'esercizio che ci tiri via nel quel dolore e vogliamo il farmaco perché il farmaco, oddio, il farmaco mi tira via quel dolore è vero che sono tutte reazioni illecite nel senso che io non ce l'ho con i farmaci quindi puoi prendere un farmaco se stai malissimo ovviamente io ne ho presi tanti se hai un'emicrania pazzesca ovviamente ti prendi un farmaco per l'emicrania un triptano o quello che è e l'emicrania va via però queste reazioni dunque del tutto naturali non ti faranno mai migliorare la tua situazione a lungo termine perché? perché sai un continuo momento tu cadi e la situazione ti tira su tu torna a cadere e la reazione, scusa, ti tira su cadi, reazione, ti tira su e la tua vita è un continuo ok, vai su, vai giù e lo vedi in tantissimi fibromialgici fibromialgiche tu chiedi a qualunque persona che ha fibromialgia che cosa ti dirà ma si dipende un giorno sto male un giorno sto bene non so più cosa fare da anni che va così e questo è proprio perché le persone seguono naturalmente anche giustamente se non hanno altre opzioni questo andazzo andamento della mente che continuamente ti porta giù ti porta su ti porta giù ti porta su se già segui il mio canale sai benissimo che la soluzione è il piano d'azione che è una struttura una via un'autostrada come vuoi chiamarla che ti porta via da questa palude che ti sta inghiottendo come attraverso proprio un piano un piano strutturato di azione quindi fatto di azioni del piano d'azione parliamo moltissimo all'interno di questo canale è il tema centrale dunque guarda gli altri video perché ti insegno come sviluppare questo piano d'azione proprio per migliorare tantissimo la tua salute per oggi visto che parliamo dell'errore numero uno parliamo del contrario dunque non avere il piano d'azione ma fare l'errore di seguire questa mente reattiva perché la chiamo proprio così una mente reattiva vedo il dolore oddio scappo dietro vedo quello devo prendere un farmaco subito perché è l'unica cosa che mi ferma il dolore mentre una cosa più intelligente a lungo termine serve proprio dedicare i nostri sforzi ad analizzare il sintomo creare un piano d'azione e andare sempre più su tirarci via da questa pallude come ti ho già detto ti insegno come farlo sia in Instagram che in YouTube o il percorso di esercizi gratuito che ti inizia questo piano d'azione i link li trovi tutti qui sotto in descrizione per oggi appunto andiamo a non a capire perché non devi fare l'errore numero uno adesso che sai il perché puoi già iniziare a fare questo sforzo perché? perché uno sforzo vero e proprio la nostra mente abbiamo detto che è programmata per agire così davanti al pericolo e davanti al dolore dunque ovviamente ci vorrà sforzo ci vorrà uno sforzo di mindset un cambio di mentalità e anche nel mio canale ti aiuto a questo cioè a cambiare mentalità a vedere la fibro da un'altra ottica non da un lato di su e giù continuo dove non sai dove sbattere la testa questo video oggi finisce qui perché era dedicato solamente a dirti qual è l'errore numero uno perché va evitato e con cosa sostituirlo no? con il piano d'azione come fare tutto questo negli altri video in tutti i video del canale in Instagram e nel percorso gratuito ciao grazie a tutti